ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video siamo sul sagge e questo è un video one shot vi porto a vedere un nuovo trail fatto veramente da poco quindi fresco 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 diciamo che il fondo deve ancora compattarsi per bene si chiama firefox incomincia dalla madonnina dove c'è il bivio per il classic ha una parte in comune con il mad mai che poi diventa molto più naturale e molto più enduro adesso ci facciamo la salita vi faccio scoprire questo nuovo tre che veramente una bomba a mano quindi ragazzuoli camsirago e firefox allora il trail comincia poco più avanti come in ogni video riguardante le discese one shot vi faccio un fermo immagine dove parte il trail e un fermo immagine dove finisce il segmento così avete riferimenti su strava è un segmento che ha inizio un po prima rispetto al classico casiraghi e mad mike mad mike di cui condivide una prima parte e poi diventa un pochino più tecnico un paio di passaggi tecnici una curva bella stretta insomma è un trail un po diverso vi faccio vedere dove parte e dove arriva praticamente parte dove c'è la madonnina se avete visto il mio la mia la puntata riguardo una discesa one shot che è l'132 classic il gas gas non so come lo chiamate che parte al vivo della madonnina a sinistra il il firefox parte a destra e adesso andiamo a farlo sperando di non trovare nessuno come vi dicevo condivide un primo pezzo con il mad mike e poi diventa firefox per poi finire alla fine del mad mike comunque lascio tutte le indicazioni del caso sinistra il classic dritto il mad quindi partenza la curva questo primo pezzo pedalato è comune con praticamente tutti i trail che ci sono qua per il lancio sulla sella qua si pedala preso dentro il pedale quindi destra casiraghi andiamo a sinistra alè primi quindi i pezzi in comune con il mad mike c'ho le pastiglie nuove che non frenano un cazzo oltretutto tutto bello secco come vedete qua continua il pezzo in comune con il mad mike qua c'è chi sta largo e chi sta stretto qua siamo arrivati tra un po' il video eh per darvi un riferimento è dove c'è una curva bastardissima sulla sinistra praticamente qua dritto firefox sinistra mad mike qualche gradone qua c'è un pezzo che dovete stare alti destra mi raccomando se si continua diventa un po' più guidato qua vedete è proprio creato da nuovo quindi c'è la terra ancora da compattarsi qua c'è un po' di foglie come vedete è naturale eh non ha niente a che vedere con il mad più io c'ho le pastiglie che non tengono che non frenano nulla adesso qua rilancino qua con l'elettrica ho fatto dei tempi esagerati questa è una curva veramente bastarda perché poi c'è un ripido ok adesso si prende l'ultima parte del mad questa fa sempre parte della ps quindi quando arrivate qua ruzzatela è qua la fine come avete visto c'è un primo pezzo in comune con il mad mike poi alla curva secca destra si prende il firefox l'aps come avete visto parte da un po' più in alto e come avete visto da quando diventa firefox diventa abbastanza tecnico in fronte al mad che invece è più guidato molto più naturale molto più enduro se vogliamo dirla tutta il mad mike è molto a scuola io come dico a tutti quando arrivate su questo punto del sanje rallentate perché qua trovate sempre dietro questo bivio spesso trovate qualcuno a piedi quindi piano e via eccoci arrivati quindi firefox avete visto guidato quindi la parte quella in comune con il mad mike poi diventa molto più enduro e naturale un paio di punti da prestare un pochino attenzione ma veramente bello 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 la trail area sta diventando una bomba mi raccomando se vi è piaciuto il video questo video one shot mettete un bel like iscrivetevi al canale che non vi costa niente alla prossima ciao 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 ciao